Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara. Avete voglia dell'arrivo della primavera? Beh, dovrete pazientare ancora un po' perché l'inverno non ha proprio nessuna intenzione di mollare la presa sull'Italia. Infatti tornerà addirittura a nevicare su alcune aree di pianura del nord. Ancora, dite voi? E infatti è proprio così, perché l'aria fredda giunta in queste ore ristagnerà nei bassi strati della Valpadana e favorirà il ritorno della neve in pianura a partire da domenica. E come vedete dalla grafica in sovraimpressione, Torino sarà proprio una delle città maggiormente interessate dalla Dama Bianca. Ma andiamo a vedere che cosa succederà appunto nel prossimo weekend. Succederà che arriverà una nuova perturbazione dalla Francia, che richiamerà correnti più miti e umide questa volta di Scirocco, che interagendo con l'aria fredda preesistente sulla Valpadana appunto favorirà cadute di neve inizialmente fino in pianura, ancora una volta sul Piemonte, sulla Liguria interna, sulla Lombardia occidentale. A quote collinari invece sul resto del nord, mentre pioggia e rovescia avanzeranno di gran carriera dal tirreno verso l'Adriatico, interessando progressivamente il centro-sud, ma con passaggio a pioggia anche in montagna, stando appunto l'aumento delle temperature. Ma torniamo sul dettaglio della neve al nord e andiamo a vedere proprio che cosa vedono le ultime emissioni modellistiche. E vedete, queste sono le precipitazioni nevose attese per l'appunto domenica sera. E come potete constatare, il Piemonte, la Liguria interna e anche la Lombardia occidentale saranno le aree più colpite, con accumuli entro domenica sera anche di 5-10 cm, ma fino a 15 sulla Liguria interna, con neve che addirittura si spingerà fin quasi sulle coste pur senza raggiungerle. Fiocchi bianchi saranno possibili anche a Milano, mentre sul resto del nord-est la neve cadrà mediamente a quote collinari, a fondo valle inizialmente solo sul Trentino Alto Adige, sul Bellunese e probabilmente anche sulla Cardia. Entro lunedì, che appunto proseguirà l'ondata di maltempo, ci aspettiamo accumuli anche di oltre 20 cm in pianura sul basso Piemonte, accumuli variabili tra i 5 e i 10 cm sul resto del Piemonte, oltre 20 cm anche sul Vare Sotto, mentre non dovrebbero esserci accumuli sostanziali sul resto della pianura lombarda occidentale. Per adesso mi fermo qui, ma data la situazione estremamente dinamica, vi consiglio di rimanere costantemente aggiornate consultando il nostro portale trabimeteo.com.